300 grammi di droga scoperti durante un normale controllo dei carabinieri è accaduto a Cerignola. I militari hanno fermato una Volkswagen Golf in via Vico Ortale San Domenico con alla guida un 22enne. Il giovane con precedenti penali è stato sottoposto a perquisizione personale veicolare e proprio controllando l'auto e i carabinieri hanno rinvenuto il corposo bottino nascosto sotto il sedile posteriore ovvero una busta di plastica con all'interno due involucri di celofan contenenti rispettivamente 200 e 100 grammi di marijuana per un totale di 300 grammi di sostanza stupefacente. Il 22enne inoltre aveva nel proprio marsupio 410 euro in banconote di vario taglio ritenuto provento dall'attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati dai carabinieri mentre il giovane dopo essere stato condotto in caserma è stato dichiarato in arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Secondo quanto emerso i 300 grammi di marijuana scoperti avrebbero prodotto a loro volta circa 2800 dosi di stupefacente pronti per essere immessi sul mercato illecito.